Ci sono tante volte ma c'è una spiegazione logica che non c'è, perché alterniamo partite importanti fuori casa, poi in casa invece non riusciamo proprio a sbloccarci. Mi dispiace perché comunque sarebbe bello dare soddisfazione ai tifosi, soprattutto in casa, ma ora tocca solo rimboccarci le maniche, lavorare duro e guardare subito la prossima partita di mercoledì cercando di recuperare almeno i tre punti che abbiamo perso oggi. Senti, proprio a proposito di mercoledì e poi di domenica facendo poi un discorso più ampio, si diceva che questa potrebbe essere comunque una settimana importante, tre partite una settimana, sono sempre quei vivi, cominciarla così cambia qualcosa? No, per noi non cambia nulla, noi dobbiamo guardare partita per partita, noi non è guardavamo la settimana, guardavamo subito la prima partita che abbiamo giocato che era quella di oggi, come ora guarderemo la prossima solo quella di mercoledì, lasciando stare poi tutto il resto, solo così possiamo uscire fuori da questa situazione, guardando partita per partita, senza fare calcoli, senza guardare altre squadre.